Ecco siamo qui con Liguri, partita a primo tempo 5 a 0. La mia squadra sta girando bene, comunque non ho totali difficoltà nel reparto di pensiero anche in attacco. E mo comunque dobbiamo provare la squadra perché ci sono anche molte assenze. Nuovi annessi diciamo oggi, nuovi ragazzi nuovi diciamo oggi. Sì c'è un ragazzo nuovo che ha sempre giocato con noi e comunque vuole rigiocare. E niente, noi ce la metteremo tutta comunque per dimostrare a questo torneo che possiamo andare avanti. Va bene grazie. A Piaz mi ha dato la partita tra Muppet e Galacticos. Siamo qui con Liguri, migliore in assoluto della squadra dei Galacticos con autore di ben 4 gol. A cui consegniamo anche le magliette migliori in campo. Partita come tu anche mi hai detto a fine primo tempo, cioè diciamo abbastanza facile. Che vi siete anche comprovati nel secondo tempo. Sì è stata una partita molto facile però faccio comunque i complimenti alla squadra avversaria perché diciamo sotto l'aspetto caratteriale hanno tenuto, hanno giocato e quindi è stata una bella partita soprattutto sulla questione fair play. Nel secondo tempo come hai visto, non so, sarà stato un calo o qualcosa? No, abbiamo mollato anche per una questione di rispetto perché il calcio è questo, è bello proprio per rispettarsi con la squadra avversaria con l'occasione comunque per dedicare questa vittoria al tifoso del Napoli che comunque sta lottando per la vita dopo quell'episodio a Roma per la Coppa Italia. Sì, vabbè senti, dove spieghi arrivare con questa squadra? No, obiettivi non me ne pongo, cioè quello che viene è tutto guadagnato, abbiamo fatto una squadra così, tutti amici per divertirci e se il futuro comunque avrà qualcosa da regalarci di bello, meglio così. Che ben venga, va bene grazie. A lei. Ciao ragazzi. Ciao.